ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su the waylanders un gioco che è su steam già da un po di tempo da giugno 2020 l'uscita è attualmente in early access e non ha sicuramente un prezzo molto basso perché costa 34 euro e 99 inizio dirlo subito il gioco non è in italiano e probabilmente non verrà mai tradotto a meno che gli sviluppatori non cambino idea sicuramente nel corso degli early access aggiungeranno lingue quali lo spagnolo l'inglese l'inglese c'è già il francese il tedesco il galiziano il cinese semplice poi se qualche utente magari qualche gruppo di traduzione deciderà di tradurlo non lo so si vedrà o saranno gli sviluppatori direttamente a farlo però io ve lo dico in anticipo così se caso non lo chiedete dopo insomma o così mi dispiace perché il gioco comunque unisce dei generi che sono ad esempio dragon age, pillars of eternity, mass effect perché perché la visuale un pochino ricorda quella di pillars, le scelte multiple in magari un po' dragon age o mass effect di sicuro la nota di pregio di questo titolo è che è stata realizzata con dei compositori veramente molto bravi le musiche sono molto belle e riprendono appunto sono gli stessi compositori delle colonne sonore della serie fallout iniziamo e vediamo che cosa si tratta ovviamente non sarò in grado di mostrarvi tutto assolutamente perché sono giochi molto molto ampi il gioco vanta la selezione di quattro razze sei classi base che poi si estendono a 30 30 classi approfondite diciamo quelle un po più avanzate e l'ambientazione quella celtica e medievale diviso proprio in due due filoni due architemporali quanto capito ci sono finali multiple ci sono scelte molto importanti da prendere a quanto ho capito si può fare uomo o donna la donna così no facciamo uomo abbiamo razza umana werewolf discendenti del dio lug non si trasformano non trasformano gli umani con un morso o cambiano forma nelle fasi della luna si praticamente qua va a caratteristiche di lupo insomma abbiamo i murian sono una razza mortale dalla pelle scura occhi dorati insomma poi può essere anche uno spunto per giocarlo questo gioco con tap translator app insomma che vi avevo portato qualche mese fa e per finire i semi moforian fomorian scusate ci sono veramente una razza di mostruosi mortali giganti che regnavano l'irlanda vabbè noi facciamo gli umani è già giusto così originali poi le classi vediamo guerriero guardiano praticamente andiamo ad analizzare del guerriero usa la doppia arma armi pesanti armi a corto raggio e melee melee il guardiano usa scudi armi pesanti e un tanker combattere melee il rogue dug e diciamo pugnali fa danno over time quindi sanguinamento quelle cose lì trickery evasion critical damage si classico ranger attacca da lontano quindi a lunga distanza ha gli animali pet e fa danni critici il mago fa magia di distruzione incantesimi ad aria e teletrasporto e poi abbiamo l'healer che cura io faccio il sorcerer e poi abbiamo il background praticamente molto interessante perché al momento non me li fa scegliere possiamo fare il celtic druid o l'egyptian ma direi che come background vedete poi una vestitola vedete facciamo i celti mago celti da ruido insomma c'è una buona personalizzazione a livello grafico mi ricorda immortals fenix quello che è uscito della ruby soft molto bello anche quello ovviamente io voglio farmi un aspetto da mago classico quindi diciamo che lo farò bello pallido pelato il colore degli occhi lo facciamo un po così vorrei cambiare no mi fa cambiare i colori della barba sì eccoli qua sì avrei voluto farla bianca ma vabbè la faremo così andiamo avanti e ora classico dal gioco di ruolo le statistiche ovviamente andiamo a potenziare l'intelligenza e la willpower perché noi siamo dei maghi seri abbiamo un bel po di punti da mettere però eh quindi potenziamo anche un po la vita e poi mettiamo critical chance abbassiamo uno di constitution e lo mettiamo in perception direi che così sono abbastanza soddisfatto questa è la nostra identità lo chiamiamo indie ovviamente pronome è lui la voce questo è un gatto questo dai siamo un umano siamo un umano una delle razze più comuni in brigantia o brigantia come mago la magia è la nostra arma scelta insomma il tuo background è un come un druido celtico come dicevo ok abbiamo cultura conoscenza della nostra cultura ma non quella delle altre religioni va bene iniziamo andiamo a vedere in che cosa consiste questo è diviso cioè story driven diciamo come gioco quindi il collegio dei maghi di Danbriga la tua casa fino ad ora tutte le conoscenze del mondo qui sono a portata di mano pronto per la tua mente sì insomma abbiamo studiato tanto abbiamo speso decadi cominciando con gli alberi le pietre il cielo il mare ma non era abbastanza per te quando sua maestà l'area ha deciso di avventurarsi in Irlanda per prendere contatto con il tatua di Danan ti sei reclutato volontario come emissario del rappresentante del tuo collegio non era bello sì qua vabbè la bellezza insomma abbiamo un nuovo mondo davanti a noi potrebbe essere questo il primo verso di una nuova leggenda di di una nuova storia sì non traduco letterale ma il senso perché se no dovrei stoppare il video e andare a vedere cosa vuole dire ogni singola parola non è ve lo dico non è un inglese complessissimo ma neanche easy ultra easy quindi valutate voi insomma io so che poi tra voi c'è gente che apprezza anche queste cose che gioca giochi in ogni lingua se questi sono belli quindi io mi rivolgo a voi purtroppo ci sono giochi belli che non vengono tradotti non verranno pazienza trovarne in italiano è altrettanto difficile c'è qualcosa di cui hai bisogno? no no questo è l'area ho aspettato questo giorno per tutta la mia vita il momento è finalmente arrivato di incontrare Tuata de Danan il momento è finalmente arrivato mi sembra buono anche il doppiaggio sì poi oddio non c'è molto suono ambientale quindi proprio registrazione studio questa no in effetti rivalutandolo forse un po' impostato però vabbè dai andiamo avanti tanto ormai non siamo qui per spoilerare la storia allora questi siamo noi dei sotto il cappuccio come ti senti ad incontrare gli dei oggi? sono eccitato di essere qui sono nervoso io sono nervoso è tutto quello che ho voluto e il mio cuore non smette di di soppalzare io ho chiesto di chiedere se La Magistra voleva un po' di soppalzare non solo mi permette di un po' di soppalzare per piacere le stelle e il horizonte prima che il sole li lavora ma ovviamente mio lord ok non ci senti il re è preoccupato ma canta musiche si sono stupende ma si vede che comunque dietro ci sono dei compositori per aver letto che sono è il principale quello di fallout quando sono su fallout me lo fa apprezzare ancora di più bello d'atmosfera si sta viaggiando poi ovviamente ci saranno combattimenti e altro insomma non so nemmeno se andremo a vederlo in questo gameplay però ecco questo gioco io ce l'ho da tanto tempo ho aspettato tanto ho detto speravo in una traduzione ma ho visto che comunque poi non arriverà e quindi niente salve si beh qua stanno chiacchierando e iniziamo finalmente a muoverci vedete che possiamo andare a zoomare a muovere col tasto destro del mouse possiamo muovere la visuale possiamo andare a parlare a dire la verità col tasto J si apre il journal come in tutti i giochi dobbiamo incontrare l'HRU incontrare i vari membri dell'HRU in pratica Amergin, Taliesin Nazeggia e Heracleons ok e praticamente ci muoviamo verso di loro e c'è il click destro da fare qui sei qui per rappresentare la milizia tu e Nazeggia sembrate vicino ride ok abbiamo parlato con tutti Wake Prince Luger dobbiamo andare a svegliarlo quindi andiamo a vedere anche come è fatta l'ambientazione tra l'altro non si salta abbiamo col tasto I l'apertura dell'inventario dove abbiamo allora questo è il nostro personaggio con tutti i punti che poi potremo andare ad aumentare il passaggio di livello abbiamo tutto l'equipaggiamento che viene poi prontamente zoomato con tutte le difese tutti i valori delle cose e l'oro e l'inventario le abilità che possediamo ah vabbè io sono un mago del lancio questo raggio energetico la formazione che è molto importante perché quando avremo dei seguaci un po' la Pillars in questo caso potremo decidere come mettere la nostra formazione abbiamo la mappa il journal il codex con tutti i personaggi che abbiamo conosciuto i companion gli npc insomma e poi vabbè quale opzioni dove vi faccio vedere che sto giocando con la grafica ultra allora andiamo a vedere non si può andare non si può andare di là no devo entrare qui no strano che wake prince lugan devo aprire una porta non so dove sia onestamente sono lì no dovevo andare dall'altra parte allora ok me lo indica la mappa perché non mi lasciava fare le scale sì sono qui ok sì questo è sembra uscito veramente dai mortals si è rovinato il mio mantello per ferito ma è fatto indubbiamente bene graficamente al suo perché devo dire non costa poco il problema è quello pensavate fosse morto allora le nostre navi hanno finito di esplorare la spiaggia è strano non ci sono persone da vedere non sono esattamente persone sono dei insomma stanno parlando un po' del background queste purtroppo sono frasi che non potete fermare leggere quindi insomma è così told to the leader obbliganzia vediamo un attimo adesso vedete qua abbiamo sulla nostra destra le persone qui parlare allora bisogna andare in fondo alla nave e parlare con le persone che ci dice il gioco anzi era dall'altra parte scusate c'è la minima in fondo che mi dice con chi devo parlare perché stiamo arrivando credendo se se lui vuole effettivamente diventare salto le conversazioni come ho già detto perché ho già provato in altri gameplay a a leggere tutto ma diventa noioso insomma quindi poi magari se il gioco vi piace lo proveremo a giocare con TAP così e vedremo un attimino come si comporta con questo dobbiamo parlare anche a lui sì non stiamo seguendo la storia però insomma vorrei arrivare a vedere anche solo un minimo di combattimento se è possibile ok talk to the leaders of briganzia fatto ritorna alla tua cabina ok torniamo alla cabina bella la nave nave tipo c'entra niente però ricorda molto navi elfiche questo tutto questo torniamo alla cabina musica è spettacolare assolutamente ma veramente tanto se amate i giochi di ruolo vi siete spolpati altri giochi grossi diciamo non in italiano questo gioco fa per voi perché mi sembra veramente fatto bene nonostante le recensioni su Steam siano nella media ovviamente non seguendo la storia non sappiamo tutto quello che sta succedendo ora infatti vediamo delle cose poi non sappiamo cosa stiamo facendo sto qui ci siamo lì anche noi però è giusto per dare un primo sguardo al titolo tanto so già che la maggior parte non saranno arrivati a questo punto del video perché ovviamente in inglese non è il gioco per tutti ecco qua siamo finalmente in zona diciamo di di azione abbiamo la pausa con il tasto spazio io vorrei attaccare ok con l'uno attacchiamo ma ho visto che anche col tab non scherzo quindi praticamente noi ok abbiamo visto il combattimento dobbiamo beh lui è lì si aspetta 30 secondi in più clicca col destro vedete possiamo prendere un drink amaro accogli tutto ok salve vediamo un attimo clicca col destro esce il punto esclamativo quindi possiamo alzare il tronco con una forza disumana lui esce non si è spezzato è il principe questo ok andiamo e abbiamo due persone ora che possiamo andare a selezionare infatti adesso possiamo vederle così prendere la pausa quindi tecnicamente muoverne solo uno in modo tattico figo figo perché scegliamo come muoverle io però preferisco tenermi il mio mago beh intanto vediamo anche lui lui che cosa può fare può fare un colpo strike o il colpo devastante vabbè dai proviamo possiamo cliccare come vi dicevo o muoverci così interessante allora abbiamo una mappa abbiamo l'obiettivo di trovare l'are hit lui è il principe non so dove sia ma direi che seguire i cadaveri potrebbe essere sempre una buona idea belli colori un po' piccolari ok allora ragazzi allora stop proviamo la modalità tattica tu prendi questo e attacca lui in fondo tu invece prendi e fai devastate attacco d'aria vediamo se lo fa non so se deve farlo col tasto verso o sinistro comunque tu fai di nuovo perché ha finito il 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 cooldown sì però ragazzi picchiate ok tu vai picchi a lui quando vengono picchiati no non tornare indietro non tornare indietro vai adesso il mago attacca in automatico io gli faccio fare un po' di attacche a lui sì è più comodo premendo il tasto perché lo fai in automatico con quelli che è di fronte andiamo 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 ragazzi devastate attacca stop prendi lui tu stai già facendo quello che devi perfetto tu continua abbiamo un po' di cooldown adesso fai devastate ancora e speriamo non muori a nessuno ok attacca questo perfetto grande attacco e attacca lui questo qua ok sarà il nostro prossimo companion credo andiamo vi attacca fa un botto di danno col primo attacco bene andiamo sull'altro lo ritengo forse un dragon age un po' più rilassato anche se non l'abbiamo ancora visto niente ok molto bene adesso si è unito anche un terzo non ci si è neanche presentati ma penso siano sempre gli stessi abbiamo trovato del gold e del bocconi amare insomma questo qua chi è vediamo un attimo col tasto i taliazin è un ranger perfetto molto bene perché abbiamo lui è un warrior lui è un ranger abbiamo l'inventario che è comune e così anche i soldi le abilità vedete che poi va bene ok ah ecco giustamente vi faccio vedere la formazione che non c'è ancora eh no infatti infatti non l'abbiamo niente non ancora abbiamo loot qua ma non voglio fare lui voglio fare lui che loota altro gold non è che ne abbiamo tantissimo ma erano poi 28 mappa è figo in questo caso lo stiamo andando un po' a così a corridoi altri 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 mi piacerebbe fare un bel un bel danno ma siamo stati circondati dai fear bolts non so da dove arrivino ma ce ne sono molti e non sono buoni dobbiamo lasciatemi organizzare le truppe c'è un caos tu aiutaci ok basta chiedere bene beh stanno tutti un po' attaccando facendosi fatti loro non sono un curatore quindi credo che non lo sia neanche il il belloccio lì quindi va bene bene ti unirai a noi oh padre ah ok lo stanno curando è quello che stavamo guardando prima dobbiamo riportare lei alla nave sono d'accordo non è stabile abbastanza per rimuovere la lancia ah c'è una lancia conficcata in lui puoi alzarti in piedi c'è una lancia e si alza va bene va bene non la vedo bene ovviamente adesso in questo piccolo gameplay di presentazione non abbiamo visto niente a livello di scelte multiple anche perché abbiamo saltato la storia per quanto si è capito abbiamo fatto questo consiglio siamo andati in in questa nuova terra a conoscere insomma in questo caso abbiamo una scelta Amergin si è unito a noi e possiamo fargli fare il mago il curatore io gli faccio fare il guaritore il curatore perché ah ma adesso siamo in metà di mille fantastico allora abbiamo noi Lucaed che è il guerriero Taliesin che è il ranger poi abbiamo preso Nazeggia che è la maga e lui è l'healer ah ok quindi alla fine il mago ce lo siamo presi comunque va bene va bene quindi si va indietro si torna in Drio vediamo l'obiettivo find the shore reach the ships ok eh siamo veramente in tanti qua eh ok vai ragazzi eh ho capito ma ah praticamente devo si targettare qualcuno e poi scegliere come fare mettere le varie mosse mi stanno facendo molto male a dire la verità eh infatti tutti stanno attaccando sto tizio qui che è morto adesso dovrei passare in tattica e tipo selezionare no non lo fa scegliere adesso no no vabbè riprendiamo lui e andiamo a fare quello che voglio fare c'è il cooldown finito il mana oh semplicemente io luto io luto perché si sa mai vai molto bene eh dai ci stiamo difendendo abbastanza bene anche se anche se la vita fatica un po' a rigenerarsi quanto ho visto ci si può riposare ok col tasto C tra l'altro me lo sto dimenticando si va in questa modalità quindi in modalità un po' più un po' più tattica la nave le navi ok ok quindi charter abbiamo siamo saliti di livello possiamo mettere dei punti tra l'altro qua abbiamo un'altra schermata che non so cosa sia comunque io direi che aumento la critical chance tre punti abbiamo da mettere e poi abilità abbiamo il modo di prenderne un'altra ehm teleporta ah ti teletrasporta in una posizione nuova non mi interessa voglio fare l'ondata arcana posso? upgrade ok abbiamo preso anche l'ondata abbiamo altri punti da mettere no non credo no infatti poi siamo saliti praticamente tutti di livello vediamo un attimo e lui li mettiamo in forza costituzione e un altro di forza due punti sono ah conferma devo confermare è vero è vero è vero è vero eh ok conferma e le abilità queste sono già confermate poi questa livello 3 non ha penso niente da potenziare no forse si l'agility e perception conferma abilità mi pare non ne abbia da prendere perché ne ha già un po' questa qui invece come noi ha preso no però non è livellata infatti ha due le rune da lanciare gli do il power intelligence conferma e poi infine abbiamo il guaritore che non conosco onestamente però mi sembra abbastanza bilanciato come punteggi e gli aumento l'efficiency uh quanti punti efficiency e cooldown che non mi dispiacerebbe però mi piacerebbe anche capire ah ne avevo un po' di punti eh vabbè dai li rimetto così un po' a cazzo e poi abbiamo anche modo di summonare uh il il questo voglio provarlo c'è anche questo che trasforma in pollo un po' preso vedete come come funziona carino però allora scusate si io prendo lui e faccio questo lo evoco è tremendamente figo bello 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 allora ragazzi io adesso direi che è giunto il momento di interrompere qui eh attendo un vostro parere su quello che eh pensate di questo titolo perché comunque mi sembra promettente e l'unico ostacolo è davvero la lingua quindi questo era dei Waylanders 34.99 su Steam uscito a giugno di quest'anno dopo un periodo di comunque di beta fatemi sapere cosa ne pensate un commento qua sotto e alla prossima e ciao ciao